Si notano i trascorsi di De Vita, il calcio che non ne racconta, con colpi più elaborati e tecnica più sopraffina. Eccola appunto in azione, fermata da Gazzullo, palla per Massa che ha un'ottima occasione di fareggio del Capri con Massa, affrittato un errore dal Barra e fareggio per il Capri, 1-1 dopo la rete di De Vita e Massa per il Capri che ha insaccato e portato il risultato in parità del Romano, palla ancora servita per De Vito, Massa prova dalla distanza, un gol d'applausi per Massa, il pareggio del Capri, un tiro dalla distanza che sorprende nel 7 a petillo, il 2-2, Capri che non si fa intimorire la Barra e ribatte colpo, su colpo, tempo di Massa per il Barra, De Vita, non mi riesce a fare il risultato, la mia via, contropiede, tiro di Russo, palla per il Capri, che si porta a quote 3, 7 a 3, Simona Russo ha rialzato per il Capri, no, terza rete. Grazie. Grazie.